Per chi ci segue da tempo sa che ci occupiamo da tanto tempo sia delle vicende e delle possibili letture legate alla storia del mostro di Firenze ma anche chiaramente a quei mondi occulti che abbiamo tentato spesso con vari ospiti di raccontare che potrebbero annidarsi dietro alcuni dei misteri d'Italia. Saluto il dottor Giuliano Mignini che ritorna con noi. Ben ritrovato. Grazie, grazie di essere qui con noi. Il motivo avrete letto sui giornali diversi articoli in queste settimane perché è uscito il lavoro della commissione, di una delle commissioni antimafia della precedente legislatura di cui il dottor Mignini è stato consulente, chiaramente anche per quelli che erano stati i suoi incarichi di magistrato indagando proprio sulla morte del dottor Narducci e dei possibili collegamenti con la storia del mostro di Firenze. Ma questa commissione, ecco perché abbiamo titolato Massomafia, perché è la commissione antimafia, ma lambisce di fatto e anche parecchio il mondo anche della massoneria. Ma tutto nasce dottore dalla scomparsa di questa ragazza, Rossella Corazzin, 47 anni fa e incredibilmente questa vicenda si intreccia proprio con Francesco Narducci e l'uomo che collega questi due eventi è Izzo, quello che è stato definito il mostro del Circeo. Ecco, come nasce questo collegamento, anche per chi chiaramente non ha seguito tutte le vicende? Ma io mi ricordo, posso dire questo, il collegamento nasce perché Izzo nel 2015-2016 racconta alla Procura di Roma questa vicenda, che poi si aprono dei procedimenti, da prima Padova mi pare se non sbaglio, io ho avuto modo di conoscere il procuratore che è morto, credo, recentemente era quello che si è occupato, che ha cercato di indagare su questa scomparsa di questa ragazza, poi il procedimento è venuto a Perugia, Perugia ha archiviato, c'è stata opposizione alla richiesta di archiviazione, insomma, poi sembrava che la vicenda fosse finita, invece non era finita perché la scomparsa di questa ragazza è un fatto che non si può ignorare, non si può dimenticare, oggi si parla di femminicidi, per esempio, si parla, e questi sono tutti questi reati di cui mi sono occupato, anche il delitto di Meredith è un femminicidio, quindi prendo atto, io, le vittime sono, ci possono essere vittime di tutti, di tutti, ovviamente, sia uomini che donne, per carità, ma la gran parte, devo dire, per quello che mi è capitato, questi delitti hanno colpito, hanno visto come vittime delle donne, giovani donne, e quindi, niente, io, quando ho questo coinvolgimento del Narducci, in questa vicenda non mi era nuovo, non mi era nuovo perché ai tempi delle indagini, io me lo ricordo perfettamente, cioè quando Izzo ha tirato fuori, ha tirato in ballo il Narducci, questa vicenda, questo coinvolgimento non mi era nuovo, perché ne avevo sentito parlare e avevo anche fatto delle indagini limitate, perché poi allora Izzo non aveva parlato ancora, non c'era nessuno che ne parlasse, ne parlava però il giornalista Fiasconaro, mi ricordo, e quindi io di questa storia ho sentito, mi sono anche occupato, poi siamo andati avanti, avevo mille cose da fare in quell'indagine, quindi poi ovviamente, ecco, ripeto, non c'era ancora questo personaggio e ho continuato e ho dovuto svolgere le indagini che si sono poi, voi sapete come si sono completate, con l'accoglimento pieno dell'impostazione accusatoria nel procedimento principale, procedimento numero 1845 0821 e con quella diciamo, quella vicenda del procedimento invece secondario, il 2782 0521 per il quale io avevo fatto la richiesta dell'invio a giudizio, il GUP, dopo aver fatto tutta una serie di accertamenti che avevano confermato, che a mio avviso erano del tutto inutili, che avevano confermato l'impianto, le consulenze soprattutto, tardando di molto poi il deposito della sentenza ha prosciolto tutti. Io ho aspettato il deposito della sentenza, fra tutto sono passati, fra l'udienza e il ritardo nel deposito sono passati, se non sbaglio, quasi tre anni, e alla fine quando io ho fatto ricorso in Cassazione e ho ottenuto l'annullamento totale, pressoché totale di questa sentenza, salvo un capo, ma anche su quel capo ci sarebbe da dire, perché la Cassazione è perplessa anche su quello, e quando la Cassazione ha annullato con rinvio per i procedimenti, per i reati, per i capi relativi a reati non ancora prescritti, perché alcuni erano prescritti, quando il fascicolo è tornato a Perugia i reati erano tutti prescritti. Quindi il nuovo GUP, la dottoressa Gian Gamboni, non ha potuto fare altro che applicare la prescrizione, salvo in un caso. Quindi quando sono venuto a sapere che Izzo aveva fatto queste dichiarazioni, io ero alla Procura Generale, non mi occupavo più della vicenda Narducci, anche se continuavo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, e quindi sono rimasto colpito, ho seguito tutte le nuove indagini sulle dichiarazioni di Izzo. Izzo introduce fra l'altro un tema, un aspetto, che non era emerso nel periodo in cui io avevo svolto le indagini, cioè introduce un contesto di tipo politico, diciamo criminale politico, che io appunto non avevo, non era emerso durante le indagini, ma che Izzo invece ha introdotto. Poi sono stato chiamato dalla Commissione parlamentare, abbiamo svolto le indagini e abbiamo sentito Izzo nel carcere di Velletri. Era presente anche il Presidente della Commissione antimafia, l'Onorevole Nicola Morra, persona di grande sensibilità, che ha capito perfettamente, ha voluto che la Commissione andasse a fondo di questa storia, poi purtroppo le vicissitudini politiche hanno portato ad una prematura fine, prematura fino a un certo punto, ma insomma anticipata fine della legislatura e quindi io ora abbiamo dovuto poi svolgere questa relazione che rimarrà agli atti. Quindi mi auguro che la nuova legislatura, quindi la nuova Commissione, riprenda il lavoro che è stato lasciato interrotto dalla Commissione parlamentare di cui sono stato consulente. Quindi io ho conosciuto poi in questa Commissione dapprima la senatrice, mi pare, mi pare senatrice Margherita Corrado, che anche lei si è dimostrata assolutamente desiderosa di fare in modo che questa Commissione andasse a fondo di questi accertamenti, poi è subentrata la onorevole Ascari, un avvocato di Modena parlamentare che ha fatto appunto la sua parte con entusiasmo direi addirittura, proprio ha dimostrato, si è interessata di questa storia soprattutto del filone centrale che è emerso, il filone Narducci, che come al solito si è rivelato, questo ormai non è più una sorpresa per me, ma si è rivelato il filone centrale della vicenda Corazzin, della vicenda poi ovviamente dei duplici omicidi e poi anche della vicenda del personaggio vigilante, perché abbiamo sentito anche vigilanti in una residenza per anziani di Prato e vigilanti ha confermato di essersi trovato in compagnia del Narducci la notte mi pare, se ben ricordo, del delitto di Calenzano e quindi insomma la notte in cui si è stato compiuto uno dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze e come molti altri però poi ha tenuto a manifestare il distacco verso questo personaggio che evidentemente era un personaggio da cui tutti cercavano di tenersi lontani, questo è quello che mi è capitato e così ha fatto anche vigilanti, per cui io mi faccia le domande, ecco io, questo personaggio... No, 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 chiediamo allora il discorso ovviamente che collega appunto Izzo, Izzo racconta ed è interessante in quella che è la relazione, quello che racconta Izzo soprattutto di incontri che poi vanno a lambire anche il mondo esoterico, certi tipi di frequentazioni, ricordando che giustamente nella relazione, e questo potrebbe rendere, come dire, credibile quanto racconta Izzo che non era un appassionato di queste, il fatto quindi che queste tematiche potrebbe essere significativo perché ovviamente il racconto di Izzo dice che questa ragazza, questa povera ragazza sarebbe stata uccisa nella villa di San Feliciano al termine di un rito, questo è quello che racconta Izzo, giusto? Sì, questo, praticamente Izzo introduce la figura del Narducci in questo modo, cioè lui evidentemente evidentemente intanto dice che lo conosceva da tempo, si erano conosciuti, lui ricorda la tenuta del Borro in provincia d'Arezzo e che era di proprietà, se non sbaglio, della famiglia Savoia-Osta, o era stata, insomma, e racconta la sua, Izzo racconta la sua formazione, c'è sempre questo discorso di questa impronta neofascista, ovviamente questi risvolti sono risvolti politici che possono essere anche più ampi, ma lui parla di questo e di questo coinvolgimento in attività massoniche meno convinto nell'Izzo, perché Izzo è un personaggio a cui questi aspetti, gli aspetti anche di tipo esoterico non interessavano particolarmente, però, mentre invece il vero esperto, secondo lui, di questi aspetti era il Narducci. Però Izzo introduce una realtà, diciamo, associativa nella vicenda che non era stata mai citata, perché noi conoscevamo la famosa setta della rosa rossa, di cui io avevo sentito parlare tantissimo durante le indagini e che però cercavo, io ho sempre cercato durante le indagini di andare con i piedi di piombo in questi aspetti, perché bisogna essere molto prudenti, molto attenti a questi coinvolgimenti. Per esempio, una cosa su cui io, all'epoca, oggi di meno, mi ero tenuto un po' alla lontana, perché non avevo elementi per andare al di là di quello che era un simbolismo, ma il simbolismo è un fatto abbastanza indeterminato, insomma, ha una valenza di significato molto, diciamo, non sempre precisa, non sempre certa. Il discorso del telo, del grembiule che copriva i fianchi del Narducci, del cadavere del Narducci, quale fu oggetto dell'autopsia a Pavia. Oggi questo discorso è un discorso che è riemerso con maggiore importanza. Comunque, Lizzo racconta che i due si sono conosciuti, si erano conosciuti e avevano stilato, diciamo, uno degli incontri che sembrerebbe quello più significativo, sarebbe avvenuto, secondo quello che dice Izzo, davanti alla chiesa templare di San Bevignate di Perugia, che è la chiesa che si trova alla destra della strada che porta verso il cimitero. Tanto per fare una concessione alla cronaca, il cimitero di Perugia è quello nel quale fu girato profondo rosso. C'è il funerale della psicologa che viene celebrato nel vecchio cimitero ebraico di Perugia e c'è lo psichiatra che è Glauco Mauri che racconta e poi si vedono i due protagonisti, la Nicolodi e l'attore inglese, non mi ricordo il nome, che escono dalla porta, dall'ingresso principale del cimitero. Quindi quel cimitero è alla destra di quella strada, prima di arrivare al cimitero, c'è questa chiesa templare, una chiesa templare famosa, molto molto importante, e lì Izzo e Narducci avrebbero stilato una specie di patto, è un patto di dar vita ad un'organizzazione di tipo neotemplare che si sarebbe macchiata di una serie di delitti. E in questi rapporti, in questi collochi tra Izzo e Narducci, Izzo racconta che Narducci gli parlò in maniera molto approfondita del delitto del Mugello, avvenuto un anno prima, nel 74, quando ancora non si parlava del mostro di Firenze. Quindi in quel primo delitto non era ancora emersa questa serialità, sarebbe emersa qualche anno dopo. Narducci ne parlò, non confessando il suo coinvolgimento diretto, ma fornendo dei particolari che all'epoca non erano conosciuti. Insomma, era un delitto avvenuto un anno prima, un delitto efferato, ma insomma non erano ancora i delitti del mostro. E quindi poi c'è il sequestro di questa ragazza, avvenuto a Tai di Cadore, il sequestro e poi il trasporto di questa ragazza a Riccione dapprima, e poi nella villa del Narducci a San Feliciano. E una delle cose che vorrei sottolineare è che su Izzo bisogna stare attenti, ovviamente bisogna essere estremamente cauti, perché è un personaggio che ha raccontato anche, non sempre, ma insomma moltissime bugie, moltissime bugie, è un personaggio sulla cui attendibilità bisogna essere molto cauti. Però Izzo descrive la villa del Narducci, che non poteva aver visto per televisione perché non è stata mai pubblicata, la descrive in modo piuttosto preciso. Io ci sono stato due volte col dottor Giuttari e col collega Canessa, e insomma mi ricordo quando Izzo parla la descrive in maniera piuttosto precisa. E quindi questo è un elemento che fa pensare. Poi descrive anche personaggi del contesto perugino, della vicenda perugina, che avevano legami con elementi diciamo come Licio Gelli, come anche il suo difensore, il professor Dean, che insomma non tutti fuori di Perugia conoscono e che non era stata pubblicizzata. Per cui è un personaggio questo che, insomma le cui dichiarazioni vanno riscontrate. Certo, infatti leggevo commenti nei gruppi anche che salutiamo, che seguono le vicende del mostro, c'era qualche utente che diceva ma ci dobbiamo fidare di quello che racconta un soggetto come Licio. Quello che io mi chiedo è, visto che lui ha fatto delle precise, cioè dice che questa ragazza è stata uccisa lì, com'è possibile che non siano stati fatti accertamenti proprio sulla villa, cioè cercare dei resti? Guardi, guardi, io mi ricordo, se non sbaglio, io mi ricordo che proprio perché erano emersi fatti abbastanza strani che erano stati riferiti da persone vicine alla villa e io mi ricordo, poi non fu più fatto questo accertamento, chiamai un consulente da Firenze per cercare di capire un pochino di più che cosa potesse essere se ci fossero state modifiche del terreno in sostanza. Poi questo purtroppo non mi ricordo io come mai, ma questo accertamento non lo facemmo, anche perché poi avevamo molte altre cose da svolgere. Però questa cosa, io, che noi ci occupammo anche della vicenda Corazzinna, come possibile, diciamo, vicenda in cui fosse coinvolto Narducci, questo io me lo ricordo. E lo diceva, questa cosa la diceva il giornalista Fiasconaro, che era un giornalista veneto, che era amico, credo, dello psichiatra o psicologo Antonello, che è morto in circostanze, insomma, drammatiche. E questo io me lo ricordo, il giornalista Fiasconaro. Questo è accaduto praticamente, mi pare, nei primi anni dell'indagine, quindi 2002, 2003, 2004. Quindi non è una novità per me. La novità è che ci entrasse questo Izzo, perché allora Izzo non era venuto fuori. Questo è quello che posso dire. Quello che posso dire anche è che i lavori della commissione, bisogna che come si deve essere prudenti su personaggi come Izzo, così bisogna essere prudenti nel, si può criticare tutto per carità, ma certe critiche che ho visto in social sull'attività della commissione sono veramente fuori dalla realtà e non sono fatte da persone che non si rendono conto di come lavora la commissione, del fatto che la commissione non pretende di accertare con certezza come invece deve accadere sul piano giudiziario una vicenda, ma la commissione parlamentare stimola, l'attività, l'interesse generale su certi fenomeni e può stimolare l'intervento dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, noi ci sono certi aspetti, certi aspetti di quello che è stato accertato dalla commissione che sono intervenuti verso la fine dell'attività della commissione. Quando noi non potevamo più approfondire questi accertamenti, mi riferisco in particolare, per esempio, all'appunto che fu trovato nel luogo del delitto della Ciabani a Scicli, quindi un territorio distante, penso mille chilometri da Perugia, più o meno, e in questo luogo è stato trovato un documento che sottoposto ad accertamento grafologico è risultato essere la scrittura, essere verosimilmente attribuibile all'ispettore Napoleoni. L'ispettore Napoleoni che stava nella squadra mobile di Perugia si sarebbe interessato nell'85 del delitto degli scopeti del personaggio Narducci e questo delitto però è dell'82. E che ci faceva, se risulta confermato come è verosimile, che ci faceva il Napoleoni o uno scritto del Napoleoni che evidenzia un interesse verso questa vicenda, un interesse di natura investigativa, che ci faceva a Scicli dalla Ciabani che però che però era stata, aveva lavorato a Perugia ed era, si dice anche, ma non è stato questo accertato con precisione, amica di Susanna Cambi, la vittima del delitto di Calenzano, se non sbaglio. Quindi, insomma, bisogna che, ecco, io mi auguro solo che la nuova commissione riprenda questa attività e avendo più tempo a disposizione possa svolgere quegli accertamenti che noi abbiamo soltanto lasciato incompiuti per forza di cose perché non potevamo andare oltre. Ecco, qui emergono tanti spaccati che conducono sempre a Narducci, nel senso che, come si dice, i tre indizi fanno una prova, qui, a livello indiziario, su gestione, insomma, ce ne sono a bizzeffe e mi interessava approfondire quello che emerge, cioè sulle frequentazioni fiorentine che sono comunque, penso, accertate anche per interessi professionali non altro di Narducci e anche che conducono anche ad alcune abitazioni che pare il medico avesse in zona e anche qui ci sono di mezzo qualcuno, ci sono testimonianze della possibile presenza di fetici in una di queste abitazioni, è corretto? Guardi, questo dei fetici è venuto fuori, diciamo, poi ovviamente il discorso del rinvenimento dei fetici è venuto fuori dalle indagini in più occasioni. Ne parla Enzo Ticchioni riferendosi alle parole di Emanuele Petri, il sovrintendente ucciso dall'EBR, ne parla la vedo la moglie del presidente del tribunale Mazzini in relazione a quanto dichiarato dal questore De Feo che poi lui personalmente smentisce ma fino a un certo punto in sostanza però conferma che nei giorni della scomparsa del Narducci vennero i poliziotti da Firenze si installarono in questura e svolsero degli accertamenti per più giorni e lei invece parla proprio in maniera di una confidenza fatta da questo vicequestore che doveva incontrare suo marito il presidente Mazzini ne parla il lautista del presidente Zampa un altro presidente del tribunale che recatosi con il presidente a una cena lui andava aveva degli amici c'era un ristorante non faccio nomi ma il ristorante in una zona centrale di Perugia sentì un conoscente del presidente Zampa un amico che gli disse che erano stati rinvenuti questi questi trofei si chiamano anche in un appartamento fiorentino del Narducci cioè questo discorso è un discorso che è emerso in più riprese e secondo me è un po' all'origine di questa fama che improvvisamente scoppiò a Perugia su questo personaggio anche se la fama che accompagnava questo personaggio secondo quanto riferito dal custode dell'isola polvese Cesare Agabitini una persona anziana ma estremamente lucida era stato già sentito durante le indagini che abbiamo risentito nella sua abitazione nei pressi del lago Trasimeno lui ha detto che questa fama del Narducci almeno nella zona del lago Trasimeno c'era fin dal 1981 quindi dal delitto praticamente di Scandicci questo è quindi questo discorso dei feticci forse è una delle cose più che più tornano su questa su questa vicenda poi ovviamente sono questi feticci sono stati distrutti evidentemente non lo so se vero o falso che siano queste cose sono state riferite da persone abbastanza attendibili il particolare anche che è riportato dalla commissione del dei proprietari di una delle abitazioni che avrebbe avuto in affitto Narducci e che chiamarono i familiari e i familiari avrebbero trovato appunto questa è una delle cose che sono state sempre ripetute sarebbe sarebbero questa casa sarebbe ci sarebbe stata in questo caso a Scandicci oppure ci sono poi intercettazioni telefoniche che fanno riferimento ad un appartamento a San Pancrazio probabilmente lui aveva diversi lui aveva diversi punti d'appoggio aveva anche delle diciamo degli appartamenti che gli venivano dati per amicizia da amici da amici che lui aveva questo è ovviamente queste sono tutte sono tutte cose che il personaggio è morto quindi non è vivo come qualcuno di questi social diciamo ha cercato di dire in realtà il momento esatto della morte quello è un problema perché secondo la stessa consulenza secondo il consulente il professor Pierucci Narducci è morto grosso modo contestualmente alla scomparsa ma è possibile che sia morto anche al qualche tempo dopo questo è quello che dice il professor Pierucci quindi dal punto di vista scientifico questo discorso è aperto ma al momento dell'autopsia lui evidentemente era morto da diversi anni per cui per cui ecco sono state diffuse tante notizie cioè io rimango tante volte sconcertato poi lascio perdere per quello che vale insomma perché alcune 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 fonti alcuni social invece dicono hanno un atteggiamento più più realistico più più prudente insomma dicono cose anche 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 interessanti questo sì però molte volte sento dire fare delle affermazioni così come se quello che interessasse fosse fare lo scoop fare un altro però con questo non si aiuta la ricerca della verità insomma poi soprattutto ci sono questi ci sono queste tifoserie che non vanno esatto non vanno bene non vanno anche siccome qui ne parleremo ci sono degli spaccati che indubitabilmente hanno intralciato le indagini hanno fatto dei pistaggi perché si lambiscono chiaramente dei muri di gomma di un certo tipo ne parliamo questo l'ha detto anche il professor di Bernardo infatti volevo arrivare proprio lì cioè voi avete ascoltato il gran maestro di Bernardo ecco perché avete scelto proprio lui come rappresentativo ecco del del mondo massonico che cosa è venuto fuori ma perché questo io non le so dire come è venuta fuori questa scelta io avevo sentito parlare di questo personaggio come di un personaggio molto serio molto molto diciamo affidabile e ne ho tratto la conferma di questo non lo conoscevo visto che si tratta di una persona che ha pienamente collaborato fra l'altro lo ringrazio sono stato molto contento del ha fatto non mi conosceva ma mi conosceva non direttamente ma conosceva la mia attività e quindi ha fatto dei complimenti su quello che era stato per esempio il mio ricordo sulla sentenza sulla sentenza Micheli in sostanza lui ha detto che era stato Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia cioè della maggiore obbedienza massonica italiana dal 1990 al 93 perché poi nel 93 in occasione dell'indagine Cordova ci fu un ci furono problemi all'interno del Grande Oriente lui lasciò il Grande Oriente d'Italia per fondare un'altra obbedienza con riconoscimento britannico che era la loggia regolare d'Italia che aveva una sede io mi ricordo camminando verso perché stavo attento a queste cose camminando verso lungo via dei Priori sulla sinistra a metà di via dei Priori c'era un portone con una targa loggia regolare loggia regolare d'Italia e questa era la massoneria mi pare si chiamasse così la nuova obbedienza fondata da Di Bernardo lui ha detto che aveva sentito parlare a lungo di questo personaggio perugino si era interessato e anche preoccupato perché ovviamente essendo gran maestro si interessava di tutte queste aveva anche un potere di controllo e di sorveglianza sulla attività della sua obbedienza delle logge aderenti alla sua obbedienza che è la più diffusa in Italia e aveva era stato contattato da un massone fiorentino che gli aveva detto di sapere tutto di questo medico perugino e che se lui voleva lo avrebbe incontrato e gli avrebbe raccontato tutto questo è quello che lui ha raccontato poi ha detto che era stato presso credo il nominativo ma poi diciamo ha parlato del decesso di uno dei suoi segretari se ben ricordo quindi poi lui subentrò questa crisi interna al Grande Oriente lui lasciò lasciò il Grande Oriente e non seppe più nulla di questo personaggio che finché lui rimase ai vertici non mantene la promessa di contattarlo come gli aveva detto perché diceva di sapere tutto di questo medico poi ha detto che è stata fatta la domanda su un al duci massone questo è un fatto pacifico perché lo dice lui lo dice lo dice soprattutto un testimone aderente al Grande Oriente che lo vide coi paramenti nella nella sede della della a piazza Piccinino praticamente la vecchia sede del Grande Oriente d'Italia a Perugia quindi questo fatto è piuttosto risulta anche da dichiarazioni di persone informate sui fatti quindi che fosse massone è un fatto pacifico e lo era ma soprattutto tutto il mondo nel quale si svolge questa storia è un mondo che è innegabilmente diciamo coinvolto pervaso da una impronta massonica era massone il padre era massone il suocero del fratello era massone il suo suocero era massone il testimone di nozze della moglie altri personaggi legati era massone il suo amico più caro come Ferruccio Farroni per esempio ed erano massoni anche i personaggi fiorentini come il farmacista è risultato dall'attività di intercettazione quindi che questa situazione si svolga in un contesto massonico lui anche lo stesso di Bernardo l'ha pienamente confermato quindi quello che quello che io avevo detto attirandomi degli attacchi vehementi e anche qualcosa di più è risultato confermato questo quindi per sapere di più bisogna cercare lì bisognerebbe cercare di approfondire ecco questa è una cosa che avremmo voluto fare cercare di capire chi fosse questo personaggio fiorentino che sapeva tutto ecco poi si parla anche di due correnti della massoneria cioè una che avrebbe voluto trasparenza e quindi probabilmente far uscire allo scoperto queste realtà sotterranee legate a Narducci e la parte che forse è stata quella prevalente che invece era per negare tutto e quindi negare anche la dinamica stessa della morte sì sì questo è stato il professor Di Bernardo ha confermato in pieno quello che aveva detto un altro testimone una persona informata sui fatti anche esso attaccato violentemente diffamato chi più ne ha più ne metta che era Benedetti famoso Ferdinando Benedetti che parlava di due correnti appunto una corrente che aveva come personaggio di riferimento l'avvocato Venzo Paolo Tiberi e nell'ambito della quale c'era anche il professor Bellucci che io ho conosciuto che ho apprezzato perché ha dato un contributo alle indagini ed era una persona fra l'altro di grande cultura con cui io mi ricordo mi ricordo di veniva a trovarmi di tanto in tanto veniva era un personaggio estremamente serio e molto molto stimabile devo dire e questi erano quelli che volevano la trasparenza poi c'era una corrente invece che ha prevalso che voleva per timore che tutto questo provocasse un danno incalcolabile alla massoneria ha voluto ha voluto mettere questa specie di tappo non immaginando che la vita è sempre piena di sorprese che di lì alcuni che alcuni anni dopo ci sarebbe stato un magistrato e forse anche non solo un magistrato ma anche altre persone che avrebbe cercato di capire di capire la verità su questa storia cosa che fa sempre bene conoscere la verità dei fatti cosa che invece in questa storia io mi sono trovato di fronte anche a dei silenzi a degli atteggiamenti di omertà a gente anche devo dire mi ricordo gente terrorizzata questo lo devo dire che apparentemente a distanza di tanto tempo la vicenda era finita non dovevano avere particolari motivi di timore e invece sono sono stati numerosi c'era un medico per esempio che era non faccio nomi ma è stato lui è stato credo ha reso dichiarazioni talmente incredibili si è messo a piangere davanti a me ma ha supplicato che non gli facessi più domande non dico il nome lo potrei fare ma non lo dico e questo qui è stato poi il reato ovviamente era stato prosciolto dal GUP ho fatto ricorso aveva scelto il giudizio abbreviato il reato si è prescritto visti i ritardi nel deposito della sentenza però la la moglie della vedova del Narducci che si era costituita parte civile ha ottenuto credo il risarcimento perché nonostante la prescrizione l'azione civile continua prosegue e ha ottenuto il risarcimento quindi questa storia non si spiega con un personaggio singolo una volta morto questo è morto è finito e invece no invece i problemi sono continuati si sono aggravati e continuano tutt'oggi e c'è questo atteggiamento che è negazionistico fino all'inverosimile nonostante l'evidenza dei fatti io sento tante volte delle interviste in cui sono delle persone che conosco che stimo per carità ma che negano non solo l'interpretazione cioè ognuno è libero di interpretare i fatti è libero come come ritiene come crede ma negare i fatti che si sono accertati questo non è possibile e invece questo viene fatto sono potrei fare tanti episodi tanti esempi chiaramente il negazionismo è soprattutto sul fatto di quello che è successo lì in quel pontile cioè dello scambio del cadavere per occultare la vera causa della morte quando si trova un cadavere poi tutti si sono in quel momento all'epoca dei fatti adagiati l'uomo è fatto così alla spiegazione ufficiale ma la spiegazione ufficiale fatta senza accertamenti di sorta le omissioni che sono state compiute sono qualcosa non fare l'autopsia non fare la visita esterna non portare il cadavere all'obitorio il cadavere ha avuto un nulla osta al seppellimento di qualche giorno più tardi del rilascio del cadavere ai familiari insomma non fare non misurare la temperatura rettale non fare foto di sorta è qualcosa per me io devo dire è un fatto gravissimo di cui nessuno è stato chiamato a rendere conto io ho subito procedimento penale sono finiti bene per carità finiti procedimenti disciplinari finito con una soluzione piena io che ho cercato di vedere di capire come fossero andate le cose a distanza di 16 anni quando mi sono trovato di fronte a questa situazione c'è qualcun altro che insomma non faccio non scendo in dettaglio ma insomma quando quando in occasione c'è un cadavere che è una persona scomparsa da 5 giorni tu non fai l'autopsia non fai non misuri la temperatura rettale addirittura si parla questo è un fatto non smentito del corteo che stava dirigendosi all'obitorio che viene bloccato dalla cognata del Narducci secondo quello che è risultato e poi se qualcuno ha detto le bugie però non è stato portato all'obitorio questo è certo e viene si ordina al corteo di portare il cadavere nella villa di cui parla Izzo poi di cui avrebbe parlato Izzo beh insomma è qualcosa sono cose che non sono tollerabili queste devo dire il questore che era presente sul pontile basta vedere le foto le foto spiegano tutte si vede il cadavere ripescato da poco a Sant'Arcangelo e il questore che è sul pontile ad attendere mentre stanno poggiando il cadavere sul pontile quindi da Perugia a Sant'Arcangelo non lo so ci ha messo un secondo o è arrivato prima non diciamo altro perché allora voglio sapere sì no dicevo a leggere la relazione e a proposito delle tiposerie a me sembra abbastanza evidente che continuare a parlare di poi tutto è possibile ma insomma continuare a parlare di killer solitari o comunque imbattersi in quello che magari personaggio che magari sono degli indizi c'entra qualcosa ma non vedere tutto il resto qui è evidente che qui siamo di fronte a un fenomeno associativo cioè su questo penso che eppure c'è ancora sostiene la storia del killer solitari sì 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 ma ne rendo conto ma se uno poi va io conosco poi sono anche persone amiche per carità ma poi uno va a chiedere ma su quale base io quando sono partito a fare le indagini non avevo posizioni preconcette io ho fatto le indagini passo dopo passo e poi ho ipotizzato un qualcosa di veramente un'organizzazione quando mi sono imbattuto cioè un cadavere che doveva essere alto 1,82 era alto 1,60 doveva essere subdolicocefalo invece era brachicefalo insomma doveva avere una circonferenza addominale estremamente ridotta e invece sul pontile aveva una circonferenza piuttosto molto pronunciata e si è trovato poi che indossava un paio di pantaloni chiusi nel punto di vita con un con il grembiule sotto che faceva ulteriore spessore di taglia 48 small beh insomma continuare a negare si tratta di negare l'evidenza cioè io insomma ci vuole anche un pochino di insomma di moderazione anche nel anche un atteggiamento negazionistico insomma mi sembra questo e invece sento dire sono per carità uno però certo è molto spesso questi questi soggetti sono personaggi dei social e questo non solo ma è questo che fra l'altro si lanciano in accuse eccetera senza conoscere un'acca di questa vicenda c'è un altro aspetto poi andiamo verso la conclusione abbiamo citato prima Napoleoni ma anche lo stesso Emanuele Petri cioè mi ha colpito e questo mi aveva già colpito all'epoca quando emerse anche i particolari delle sue indagini cioè comunque appartenenti al mondo della polizia che ufficialmente non si dovrebbero occupare perché avevano altre funzioni Petri credo all'epoca fosse in servizio alla questura di Arezzo poi sappiamo alla Polfer prima di trovare la morte in modo così tragico e anche quel collega che era con lui morto suicida quindi sarebbe stato interessante anche avere chiaramente ulteriori testimonianze anche di quel giorno in treno ma ecco cosa si può ipotizzare cioè avevano delle indagini parallele Petri che dice prima o poi lo catturo il dottorino come lo chiama nel territorio comunque della provincia di Arezzo addirittura va anche questo penso sia accertato va in provincia di Firenze a sentire la moglie di Calamandrei quindi perché un piziotto della questora di Arezzo dovrebbe andare a Firenze questo questo è una delle cose io ho cercato di capirlo di capirlo interrogando la moglie che non sapeva nulla di questa storia però in un in un incontro che ho avuto con lei all'inaugurazione di una caserma della polizia lei ha detto che voleva venire a parlarmi perché mi ha fatto capire forse potevo avere ragione ho aspettato ma non è venuta quindi poi sono andato in pensione ora ecco questo è un altro aspetto un altro un altro aspetto su cui noi si pensava di di fare un accertamento e poi è arrivata le le dinamiche politiche sono sono abbiamo visto è arrivata questa fine anticipata della legislatura che ha bloccato tutto e non abbiamo potuto più andare avanti come era nostro desiderio io penso che lui comunque questo è un dato di fatto cioè pensare che il residente di San Feliciano Enzo Ticchioni che conosceva Emanuele Petri potesse essere avere scambiato le sue informazioni con la moglie del farmacista di San Casciano che era ricoverata alla diciamo la casa di riposo delle suore Poggiolini a Firenze mi sembra sono due soggetti che non si conoscevano e dicono la stessa cosa insomma come poi per quale motivo eh probabilmente sa ci sono ci sono anche ci sono anche persone che sono molto che si diciamo si dedicano a diciamo a indagini è possibile a indagini anche volontariamente danno un contributo alle indagini sono persone animate da da grande senso civico io devo pensare oppure non lo so no o mi sono anche ho anche pensato ad altre ad altre cose ma non avendo elementi perché poi io volevo io l'avrei interrogato Emanuele Petri ma le brigate rosse dell'Ala Moretti sono arrivate sono arrivate prima di me potete immaginare la la delusione che ho avuto quando ho visto che era stato ucciso purtroppo sono cose che succedono quindi quindi però ecco quello che dice Emanuele Petri l'hanno detto molti altri molti altri quindi l'ha detto anche l'ha fatto capire l'hanno fatto capire poliziotti della squadra mobile poi quindi non è che Emanuele Petri da solo dice queste cose lo dice la moglie del farmacista e l'hanno detto anche a altri e l'hanno questo discorso anche poi dei fetici degli inseguimenti ne parlano anche altri ne parla ne parla un appuntato brigadiere dei carabinieri che si trovava in un posto di blocco nei pressi dello stadio nell'81 e e vede passare una macchina che diciamo spara un colpo lui o altri un colpo in aria e però la macchina si fa perdere le sue tracce poi l'indomani vede la macchina dello stesso tipo e dello stesso colore che lui per motivi non sappiamo per quali motivi diciamo considera sospetta che fosse la stessa di quella vista la sera precedente era guidata da Narducci che stava andando all'ospedale che diciamo i carabinieri indagassero su questo personaggio fin da prima della scomparsa è un dato di fatto ne parla il brigadiere Pasquale Pierotti che credo sia andato in pensione che sono hanno detto sono 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 tutte persone che hanno detto hanno parlato con molta franchezza e soprattutto ne parla l'ufficio il colonnello Antonio Colletti che era il comandante dell'aliquota carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della procura generale che è stato sentito anche nell'incidente probatorio quindi sono 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 risultanze non sono isolate sono insieme ad altre sempre coerenti con altre perché le risultanze delle indagini vanno viste in sinergia non come fa come ha fatto qualche corte lasciamo in maniera isolata e in maniera atomizzata diciamo così vanno viste insieme c'è un brocardo latino che insegna questo l'ultima l'ultima cosa proprio a livello personale sia quando si è imbattuto la prima volta in queste vicende si è rimasto comunque colpito che magari anche la stessa espressione mostro di Firenze forse cognata chissà fin dall'inizio per da Mario uno dei depistaggi cioè mostro di Firenze si pensa al maniaco al serial killer mai penseresti a omicidi di gruppo di stampo magari rituale ecco il fatto che delitti così efferati potessero avere coinvolgimenti eccellenti coperture eccellenti e anche magari retroscena magico rituali la sorpresa oppure un mondo che magari sospettava già che esistesse guardi io di questa storia del mostro di Firenze mi ricordo che l'ho seguita da prima come cittadino come privato cittadino anche ero anche magistrato ma non stavo in servizio a Perugia però sono stato in servizio ho iniziato la mia carriera a Volterra in provincia di Pisa nell'ottanta per cui questi delitti si svolgevano vicino a dove abitavo soprattutto mi ricordo il delitto di Baccaiano di Montespertoli che si svolse lungo via Volterrana quindi io mi ricordo stavo tornavo a Perugia il fine settimana e mi ricordo ci furono ci furono dunque il settantaquattro no ma l'ottantuno i due dell'ottantuno e quello dell'ottantadue io stavo a Volterra quindi mi ricordo che sentivo proprio la sentivo a parte l'interesse si leggeva La Nazione La Nazione era molto l'ho sempre letta io molto e quindi era un giornale era un giornale di Firenze che si legge a Perugia è uno dei giornali credo che all'epoca fosse non so se ancora ma penso di sì insomma uno dei più letto e quindi seguivo queste vicende queste vicende mi incuriosivano mi interessavano e soprattutto mi ricordavo che io in Arducci lo conoscevo di vista di vista perché frequentava la mia stessa sezione A del liceo ginnasio Annibale Variotti lui era un anno un anno avanti e mi ricordo di averlo visto pochi giorni prima della scomparsa di averli incontrato casualmente mentre tornavo a casa a piazza Partigiani sotto l'hotel Excelsior mentre armeggiava sulla sua moto e mi colpì perché era in condizioni fisiche disastrose era dimagrito in maniera impressionante e aveva occhiali scurissimi che coprivano una ferita che aveva all'occhio destro che scendeva ma mi pare sotto la palpebra e io rimasi rimasi veramente colpito dallo stato molto sofferente che dimostrava lo salutai era diciamo era uno di quelli con cui ci si salutava al liceo insomma ciao si dava del tu e mi colpì questa 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 perché veramente era molto sofferente e quando scomparve e io mi ricordo quando venne quando scomparve dopo alcuni giorni si sviluppò questa ma era qualcosa di più che una diceria cioè era proprio si sentiva si sentiva dire dappertutto anche nel palazzo di giustizia mi ricordo e io pensavo devo dire la verità non pensavo in quel periodo ad un gruppo ad un soprattutto ad un fatto di natura esoterica non perché allora era era a Perugia soprattutto si pensava a un singolo a un singolo anche se ripensandoci oggi pensare che un singolo potesse fare tutte quelle operazioni che doveva compiere questo questo assassino per uccidere per asportare in piena notte quindi doveva illuminare la scena doveva compiere le mutilazioni e metterle poi in un contenitore in qualcosa e senza senza essere assistito da qualche da qualche complice che lo proteggesse da intrusioni no pericolose io veramente chi pensa una cosa del genere cioè veramente non fa i conti con la realtà soprattutto compiere quelle mutilazioni in piena notte e in notti fra l'altro che non sempre ma insomma erano per lo più di luna piena luna luna di novilunio e insomma mi sembra molto mi sembra compiere l'uccisione dell'uomo poi la donna che veniva portata fuori e compiere quelle mutilazioni in piena notte insomma senza ripeto almeno ci fosse stato qualcuno che sorvegliava la zona evitava che l'arrivo di curiosi ecco mi sembra che sia qualcosa di non credibile e quindi però allora si pensava o così si pensava a questo ecco io mi ricordo poi piano 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 cominciai a pensare a questa possibilità e beh anche perché altrimenti non si spiegherebbe neanche come mai nella tipica tradizione italiana delle cose che non si devono mai sapere perché a distanza di tutti questi anni cosa c'è che non si deve sapere nonostante che magari i protagonisti saranno sicuramente morti evidentemente è una vicenda paradigmatica che chissà magari sta continuando sotto altre forme è uno è uno è diventato uno dei misteri italiani questo insieme a tanti altri che abbiamo in questo sfortunato paese oddio non che ce ne siano solo in Italia ma insomma però ecco io chiuderei facendo così lanciando un messaggio se qualcuno magari conosce perché nella relazione riferimento a quello che racconta Izzo su Narducci e al delitto del settantaquattro si fa riferimento a questo gruppo che io non avevo mai sentito gruppo satanistico nove angoli nove angoli on dedito a sacrifici umani legato mai emerso in precedenza mai emerso io non l'avevo mai sentito nemmeno io infatti quindi magari se qualcuno ha mai sentito parlare di questo gruppo dei nove angoli magari ci scriva e vediamo se Izzo ne parla chiaramente lo dice chiaramente non era un esperto di esoterismo però lo dice lui e io non avevo mai sentito la famosa signora Carlizzi che aveva un debole per queste non ha mai parlato di una cosa del genere mai parlato quindi il che tutto dire insomma allora io ringrazio molto tra l'altro le date poi sono delitto del settantaquattro Corazzina e Circeo sono più o meno avvengono negli stessi anni l'anno dopo il Circeo 74 poi il 75 Circeo e la scomparsa della Corazzina che è scomparsa per ora noi non sappiamo però bisognerà pure trovare questo se possibile dove è finita questa ragazza perché insomma io ho sentito le parole della della cugina credo che veramente insomma pensare io sono 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 ma chiunque insomma di fronte a un fatto del genere insomma la ragazza di 17 anni genitori che sono morti di praticamente di crepacuore beh insomma diciamo se no non c'è niente quindi lasciamo perdere no almeno c'è questo poi non è credibile ho capito non c'è altro scomparsa nel nulla in in cadore quindi dal cadore siamo finiti al al lago trasimeno grazie davvero al dottor Giuliano Mignini grazie a voi grazie veramente buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti